idee per natale magia boutique magia boutique magia boutique è intimo accessori e preziosa bigiotteria marchi come Luigi Twinset Calvin Klein Armani Uomo Valerie Rosa Pua Gias Cavalli Scopriamo alcune belle idee regalo per il Natale Valerie con i suoi splendidi cardigan in lana cashmere da accompagnare con canotte e leggings la tuta Luigi grigio intracite con paillette oro abbinato a una t-shirt nera con strass di Gias Cavalli e fularino sempre firmato Cavalli sottoveste cipria prugna più kimono di Luigi abito sottoveste in raso grigio con balza in pizzo accompagnato ad un cardigan in lana con collo staccabile di Twinset il tutto abbinato ad una parigina nera con balza in pizzo nero sempre di Twinset Belli idee regalo per Natale sono gli accessori da Magia Boutique ne trovate una scelta molto ampia Gias Cavalli e Bickenberg propongono sciarpe e cuffie con loghi in diversa nuance Gias Cavalli invece propone dei bellissimi fular con le classiche stampe cavalli sono in pura seta da Magia Boutique trovi anche la bigiotteria firmata Twinset molto originale spiritosa fatta di charms e cristalli molto femminili un'altra bella idea regalo è quella firmata Luigi che propone sempre delle bellissime pochette in vernice con all'interno una sfiziosa t-shirt con stampa Maria, Giovanni, Laura e Samantha vi attendono in Viale Padova Sottomarina Idee per Natale Idee per Natale Idee per Natale Idee per Natale Grazie a tutti.